Se da un lato la Campania cresce in termini economici con livelli anche interessanti, dall'altro risulta sempre meno attrattiva per i giovani che decidono di andare a studiare all'estero impiantando, in molti casi, imprese e start-up lontani dalla terra di origine. Se ne è discusso all'Unione degli Industriali di Napoli, a margine del convegno Why Campania, il bello di fare impresa nella regione traino dello sviluppo del mezzogiorno. Alla discussione hanno preso parte numerosi rappresentanti del contesto politico, imprenditoriale e finanziario che hanno analizzato un recente studio di Deloitte, come spiega Mariano Bruno ai nostri microfoni. C'è una grossa migrazione di giovani, soprattutto attratti da offerti di lavoro o da tenei, più accattivanti. Questo è molto problematico perché le politiche industriali si devono basare sulle nuove forze e quindi i giovani devono essere al centro di attenzione sia dei politici sia degli imprenditori. Industria, investimenti, innovazione, tre sfide e opportunità per lo sviluppo del meridione. Il tema invece è della tavola rotonda a cui ha partecipato il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo. Il sud è attrattivo, lo stiamo vedendo in questi giorni con i dati Svimez e c'è la grande possibilità veramente che questa sia la locomotiva per tutto il paese e quindi per l'Europa. Ma come attrarre i giovani? Quali politiche per il lavoro mettere in campo? Lo spiega l'imprenditore Armando De Nigris. Se Google è venuta a Napoli e a San Giovanni ha inserito e ha voluto la sua Academy, vuol dire che c'è qualcosa, vuol dire che noi abbiamo giovani di talento, che gli altri ci riconoscono e che noi nella città fatichiamo ancora a comprenderne il vero valore per averli nella continuità e per il futuro delle nostre imprese.